Sono felice di avere ancora una volta fatto pensieri simili a quelli dell'illustre ministro San Giuliano, il quale ha detto due cose sbagliate, però per caso. Cioè ha detto, allora noi la compreremo con la prelazione. Quindi il concetto giusto è compreremo, però la prelazione la puoi fare solo se l'edificio, anche un fatto tecnico, è vincolato. Siccome l'edificio non è vincolato, non c'è prelazione possibile. Dopo la stoccata ormai quotidiana al ministro San Giuliano, con cui i rapporti si sono azzerati, il sottosegretario Sgarbi, ospite di un evento a Padova, guarda Vittorio Veneto e alla casa natale di Lorenzo da Ponte, genio della musica classica, librettista di Mozart con opere come Le Nozze di Figaro, il Così Fan Tutte, il Don Giovanni. L'immobile, a pochi passi dal centro, è oggi in abbandono, è in vendita. Una vergogna, in Italia si parla solo di Maneskin, aveva tuonato poche sere fa il maestro Riccardo Muti, portando lo stesso San Giuliano a valutare la possibilità di acquisto da parte dello Stato, ma in terra Veneta Sgarbi puntualizza e rilancia. L'acquisto è importante, la segnalazione di Muti è molto importante, il ministro ha recepito l'importanza, però la procedura, perché nelle nostre materie la procedura è importante, presuppone che dopo le sue dichiarazioni così molto entusiastiche, si proceda con la chiamata del suo intendente, la procedura di vincolo, il vincolo all'edificio e poi trovarsi anche un compratore, perché se non c'è quello la prelazione non c'è. Per Sgarbi occorre coinvolgere le fondazioni bancarie, in ballo c'è un pezzo di storia italiana, apprezza l'interesse del comune, da tempo impegnato nel valorizzare il suo genio locale, ma senza i soldi per comprare la casa, 130 mila euro solo l'immobile. È un posto prezioso, noi speriamo che possa diventare anche, almeno in quota parte, perché l'immobile è un po' grandino, un centro studi adeguato a quella figura, però quello che dichiaro è che il comune di Vittorio Veneto da solo non c'è la famica. Io vedo con favore che anche a livello nazionale ci si accorga di questa carenza e se qualcuno viene avanti faremo i punti d'oro.